Per l'uomo che vuole curare il minimo dettaglio anche a primavera ed estate, Nietzsche e lui, il negozio di tifosi azzurri, vi aspetta in via Giuseppe del Papa, in centro storico, ad Empoli, Nietzsche e lui. La serie B-Win. La serie B-Win. La serie B-Win. Sì, sì, sì. Sì, Sì, Sì! 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 Questo è il mio cuore Questo è il mio respiro Questa è la mia casa Questo è il mio sogno Questa è la mia famiglia Questa è la serie BWIN RDF 1027 in collaborazione con Radio Bruno presenta la radiocronaca delle partite dell'Empolicaccio solo sui 99.2 le gare in serie B degli Azzurri raccontate dalla redazione di Radio Bruno Per l'uomo che vuole curare il minimo dettaglio anche a primavera ed estate Mitch e lui il negozio di tifosi azzurri vi aspetta in via Giuseppe del Papa in centro storico ad Empoli Mitch e lui